Supportatemi tutti quanti come creatore scrivendo il codice ORCUVERDGAMER12 nel negozio oggetti. Supportandomi come creatore potete giocare con me su Fortnite e se volete potete anche inviarmi la richiesta di amicizia su Epic Games. Le accetto a tutti. Il mio id Epic Games è uguale al codice creatore ORCUVERDGAMER12. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!